Potito lo potremmo definire il ritorno dopo la vittoria di Napoli, la bella prestazione a Roma contro Stefanec è tornato finalmente in forma, una bella prestazione? Ma sì, sono contento perché sono sicuramente molto meglio rispetto all'inizio dell'anno e ancora posso migliorare, però l'importante è vincere partite come queste e giocare il più possibile. Io ogni settimana mi sento sempre meglio, quindi l'importante è quello e sono contento per questo. Proseguendo nella striscia del giocare il più possibile, quali i tuoi prossimi appuntamenti? Giocherò ancora un paio di Challenger, a Cosic e poi a Milano, dopodiché vediamo un po' come vanno e decidiamo. Prima di chiudere un saluto agli amici di E-Tennis Me. Un saluto agli amici di E-Tennis Me. Ciao da Polito Starace.